Il 14 marzo 1993, il calcio italiano piange la scomparsa di Sergio Manente e il primo terzino moderno, giocatore in grado non solo di marcare ma anche soprattutto di spingersi in avanti. La sua classe sopraffina gli spalanca le porte della Nazionale con la quale disputa un solo incontro il 18 maggio 1952 a Firenze in amichevole con l'Inghilterra. Grande amico di Giampiero Boniperti, Sergio Manente è lo specialista degli autogol. In un articolo della Gazzetta dello Sport si riporta che, quando in una partita la sua squadra aveva un ampio margine di vantaggio, come gesto scaramantico Manente era solito segnare volontariamente un autorete negli ultimi minuti dell'incontro.